In questo video vogliamo condividere un esperimento che riguarda una delle tecniche di compensazione che ha rivoluzionato completamente il mondo dell'apnea moderna, il mouthfeel. Prima di parlare di questa novità, è doveroso fare una premessa dove andiamo a capire bene che cos'è il mouthfeel e come viene insegnato nei manuali e nelle principali didattiche. Il mouthfeel è quella tecnica di compensazione che permette di compensare oltre il volume residuo. Il volume residuo è quel particolare volume polmonare oltre il quale non è più possibile prendere aria dei polmoni e metterla nella bocca. Va da sé che se non abbiamo più aria in bocca non riusciamo più a compensare le orecchie. Per effettuare il mouthfeel bisogna caricare completamente la bocca e rinofaringe di aria tramite uno sforzo ispiratorio, chiudere la glottide e gestire l'aria che abbiamo traslato in bocca tramite la compensazione continua. La compensazione continua consiste nel mantenere costantemente il sistema oro e rinofaringeo in pressione. Questa pressione serve a mantenere le tube di ostacchio aperte per tutta la durata del tuffo. Affinché si possa eseguire la compensazione continua è fondamentale gestire il carico aereo in maniera ottimale. Gestire il carico aereo in maniera ottimale significa utilizzare una sequenza di compressione che parte dalla mandibola, continua con le guance e termina con la lingua in modo tale da mantenere sempre e costantemente le tube aperte. Devi immaginare il carico aereo come una palla d'aria all'interno della bocca che man mano che aumenta la profondità riduce il suo volume. Riducendo questo volume se noi non facciamo niente con la nostra bocca la pressione all'interno del sistema oro e rinofaringeo diminuirebbe. La diminuzione di questa pressione porta alla chiusura della tuba. Dato che noi vogliamo mantenere le tube aperte durante tutta la discesa abbiamo bisogno di seguire con la mandibola poi con le guance e infine con la lingua questa riduzione volumetrica. Eseguire questa sequenza di compressione non è semplice per due motivi. Il primo riguarda la glottide che è sempre costantemente sotto stress. Il secondo riguarda la sequenza in quanto a livello istintivo abbiamo la tendenza a spingere prevalentemente con la lingua. Durante la compensazione continua spingere subito con la lingua portare la lingua in alto in blocco significa interrompere la sequenza mandibola guance lingua. E questo si manifesta con quella sensazione di avere aria in bocca ma di non riuscire a utilizzarla. Spesso questo errore viene confuso con la chiusura del palato molle ma il più delle volte dipende appunto dalla lingua. Ti faccio un esempio pratico per capire di cosa stiamo parlando, per avere la sensazione di quanto sia facile incappare in questo errore. È sufficiente che tu respiri dal naso mantenendo le guance gonfie. In questo esercizio il palato molle è aperto, la glottide è aperta, ma comunque siamo in grado di mantenere aria all'interno delle guance. E questo perché? Appunto perché la lingua è in chiusura contro il palato e quindi sta escludendo l'aria all'interno delle guance. Quest'area che è nelle guance, se fossimo in acqua, è tutta aria che non è utilizzabile per la compensazione. Ti anticipo subito che nel tuffo che stai per vedere la gestione del carico aereo non è stata fatta in continua, ma bensì a richiesta. A richiesta si intende che eseguirò una compensazione solo quando il mio orecchio avrà bisogno di compensare e tutte le compressioni sono state fatte esclusivamente dalla lingua, quindi non utilizzerò nessuna sequenza di compressione per gestire il carico aereo. In questo tipo di mouthfeel le guance e la mandibola non hanno nessuna funzione compressiva, ma semplicemente si limitano ad immagazzinare aria all'interno della bocca. Ti lascio la visione del video e ti aspetto alla fine per spiegare meglio come è possibile gestire completamente un carico aereo solo ed esclusivamente con la lingua. o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo aspetto durante il tuffo è evidenziato anche nell'espressione rilassata del volto durante la discesa. Non ci sono mai segni di tensione né sulle guance né sulle labbra. Il secondo aspetto tecnico invece riguarda il passaggio dell'aria dalle guance alla lingua. Prima abbiamo detto che uno dei principali problemi della compensazione continua è che la lingua tende ad arrivare subito contro il palato andando ad isolare parte del volume d'aria delle guance. Bene, anche con questa tecnica accade esattamente la stessa cosa. L'unica differenza è che è molto più semplice andare a recuperare quell'aria perché basta allontanare i denti, quindi basta aprire la mandibola per far passare l'aria che è intrappolata nelle guance sulla lingua e quindi renderla nuovamente disponibile per le compensazioni successive. Nel video del tuffo questo passaggio è molto evidente. Passare l'aria dalle guance alla lingua permette proprio di recuperare quella parte di aria e quindi avere nuovo volume aereo da poter utilizzare per la compensazione. Il carico terminerà quando la lingua arriverà nuovamente contro il palato e nell'esempio di questo video potete notare come quando mi avvicino al fondo della piscina il pomo d'adamo è completamente attaccato al sottomeno. È in posizione alta ad indicare proprio che la lingua ha raggiunto il palato e che quindi il carico aereo è finito. Come notato il carico è stato preso praticamente in superficie, a un metro e mezzo di profondità, quindi l'incremento pressorio gestito con questa tecnica di compensazione non ha niente che invidiare al classico mouthfeel. Abbiamo fatto provare questa tecnica di compensazione a diversi atleti, sia nell'ambito dell'appanea che nell'ambito della pesca e dobbiamo dire che i risultati ottenuti sono davvero sensazionali. Siamo fortemente convinti che questa gestione del mouthfeel possa essere un'alternativa alla compensazione continua, soprattutto per tutti quegli apneisti che hanno difficoltà nel tenere chiusa la glottide, quindi che tendono ad ingoiare aria, oppure per quelli che hanno sempre aria nella bocca ma che non riescono a compensare. Se hai dei dubbi, delle domande o delle curiosità riguardo questa tecnica o altre tecniche di compensazione ti invito ad iscriverti al Check, nient'altro una videochiamata gratuita di 30 minuti dove potremo andare appunto a parlare di questi argomenti. Ti aspetto, ciao! 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 Ciao!